E' stato piacevole rivedere finalmente i ragazzi in presenza, finalmente senza le mascherine. Qualcuno l'ha tenuta, qualcuno ha preferito toglierla come è possibile fare. Sono prove di ritorno alla normalità, dopo un anno che finalmente ha permesso di rimanere quasi sempre in presenza, i due anni precedenti sono stati veramente pesantissimi da questo punto di vista, però tornare a scuola, rimanere sui banchi, vedere i ragazzi e condividerlo con loro questi momenti è stato estremamente piacevole. Speriamo che tutto prosegua per il meglio e che l'anno prossimo si torni a una vera normalità con una presenza costante senza dover alternare didattica a distanza con didattica in presenza. L'esame di maturità ci ha dato questa speranza, andiamo avanti così. Per quanto riguarda le tracce, devo dire che personalmente mi sono piaciute moltissimo, le ho trovate attuali e molto stimolanti. Ho visto che anche i maturandi scrivevano molto nella commissione che precedevo, addirittura qualcuno è arrivato proprio alla fine del tempo utile e necessario, le sei ore disponibili, perché avevano tanto da dire e tanto da scrivere e abbiamo dovuto chiedere di velocizzare per restituire il compito perché eravamo arrivati alla fine. Però vuol dire questo che davvero hanno dato degli spunti interessanti ai maturandi e mi sembrano davvero tutti molto contenti. Grazie a tutti.